RICONOSCIMENTO IDENTITÀ INIZIATO Buongiorno, agente Sterling. Che il gioco abbia inizio. Ha funzionato! Il soggetto è visibilmente confuso. Walter, che cosa hai fatto? I piccioni sono ovunque e nessuno li nota. È il miglior travestimento che una spia possa avere. Vedi di spiccionarmi subito. Basta, ragazza, sul serio. Ehi, Lance, guardami. Guardarti? Io non riesco a guardarti, Walter. Vedo le mie chiappe e la tua faccia allo stesso tempo. La 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa